Sabato incontriamo una squadra molto giovane, fisicata e soprattutto molto ostica. Sarà a noi imporre il nostro gioco in virtù del fatto che a noi i tre punti servono tantissimo sia per la ripresa ottima del 2023 sia per continuare il bellissimo percorso concluso nel 2022 e continuare il nostro percorso di crescita che ci dovrà portare a toglierci grandissime soddisfazioni.